Benvenuti su Top Coin Italia. Oggi parleremo delle top criptovalute su cui investire e che ti faranno fare il 10.000 per di guadagno. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche. Tutte le criptovalute che andrò a menzionare all'interno di questo video saranno acquistabili su BingX, vi lascio il link sotto nella descrizione, c'è anche un ottimo bonus da riscuotere. Detto questo, iniziamo con la lista. 1. Ethereum Lo sviluppo di contratti intelligenti su Ethereum l'ha resa oggi la rete tecnologica blockchain più grande e attiva. La sua utility Crypto Token, ETH, svolge varie funzioni all'interno dell'ecosistema Ethereum, tra cui il pagamento delle commissioni di rete, l'emissione di token, l'accesso a prodotti e servizi e l'interazione con le DAP, tra gli altri. Al di fuori della rete, ETH viene utilizzato per transazioni finanziarie e può essere conservato come riserva di valore. Perché investire in ETH? In quanto utility token della pionieristica piattaforma di contratti intelligenti, ETH è una delle risorse digitali più sicure in cui investire e uno degli utility token da acquistare. ETH ha anche il maggior numero di casi d'uso, tra tutti gli utility token, rendendolo una buona opzione di acquisto. Con il recente aggiornamento per migliorare la scalabilità della sua rete, gli analisti del mercato delle criptovalute sono ottimisti su ETH, prevedendo che potrebbe diventare la prossima grande riserva di valore nel settore delle valute digitali. Rischi nell'investire in ETH La volatilità del mercato delle criptovalute è il principale rischio associato all'investimento in ETH. Tuttavia, la crescente concorrenza che la blockchain di Ethereum sta affrontando nello spazio DeFi potrebbe avere un impatto a lungo termine anche sul prezzo della moneta di utilità ETH. Numero 2. Binance Coin BNB, precedentemente noto come Binance Coin, è l'utility crypto token che alimenta l'ecosistema BNB Chain, la blockchain su cui opera l'exchange di criptovalute di Binance. Gli utility token vengono utilizzati come valuta primaria sul Binance Launchpad, per l'emissione di altri token di utilità e il lancio di progetti sulla catena di BNB. Gli utenti che detengono BNB, l'utility token emesso da Binance, ottengono l'accesso alla catena BNB e a tutti i prodotti e le DAP all'interno dell'ecosistema. Questo token offre anche vantaggi tangibili, come sconti di trading sull'exchange Binance, commissioni di transazione ridotte e accesso a funzionalità esclusive. Perché investire in BNB? La performance storica di BNB insieme al successo dell'exchange Binance lo rendono uno dei migliori token di utilità in cui investire. Binance rimuove regolarmente monete BNB dalla circolazione, attraverso il processo noto come token burning, rendendo il token nativo un asset deflazionistico. La scarsità che ne deriva dalla riduzione dell'offerta totale di utility token BNB potrebbe anche far salire il prezzo delle utility coin. Rischi dell'investire in BNB. Il prezzo degli utility token BNB è spesso influenzato dalla performance del suo exchange Binance. Con la recente incertezza normativa che circonda l'exchange Binance, investire in utility token da acquistare come BNB comporta rischi significativi. Numero 3 NIR. NIR Protocol è una tecnologia blockchain di livello 1, Layer 1, che sta emergendo come soluzione ai limiti delle tradizionali reti blockchain, come basse velocità di transazione, basso throughput e scarsa interoperabilità. È considerata una delle blockchain più veloci, con la capacità di elaborare fino a 100.000 transazioni al secondo. L'elevato throughput e l'interoperabilità di NIR Protocol lo rendono un'opzione eccellente per l'implementazione delle DAP tradizionali e dei protocolli DeFi. Il progetto mira a diventare il sistema operativo per un web aperto e decentralizzato. NIR, l'utility token, viene utilizzato per lo staking, il pagamento delle commissioni di transazione, l'accesso ai prodotti all'interno dell'ecosistema, come garanzia e l'incentivazione dei nodi sulla rete. Perché investire in NIR? NIR alimenta una blockchain ad alte prestazioni, che ha guadagnato molta attenzione negli ultimi tempi. Di conseguenza, il protocollo dei progetti cripto ha trovato diversi casi d'uso, inclusa la sua ultima partnership con Alibaba. Con il lancio di sempre più prodotti e servizi su NIR Protocol, si prevede che l'utilità e il valore dell'utility token nativo NIR aumenteranno. Rischi dell'investire in NIR. NIR è una moneta di utilità altamente volatile, che subisce significative fluttuazioni di prezzo. Inoltre, a causa della fase nascente dell'interoperabilità della blockchain, la blockchain NIR è spesso presa di mira dai criminali informatici. Numero 4. Mana. Si prevede che il concetto di metaverso otterrà un'adozione più ampia nei prossimi anni. Essendo uno dei token più importanti del metaverso, si prevede che Mana crescerà in termini di adozione e valore, rendendolo un'ottima opzione per investimenti a lungo termine. Pertanto, Mana si distingue come uno dei migliori token di utilità a fini di investimento. Rischi dell'investire in Mana. La concorrenza nello sviluppo del metaverso è feroce e il prodotto risultante potrebbe differire da quello odierno. Rappresentando un rischio per GLA investitori in token Mana a lungo termine. Possiedi una di queste cripto? Fammi sapere sotto nei commenti. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video!